Adesso vado a tutta birra, questo il convento a caldo di Lucia Annibali dopo la sentenza che ha condannato all'ergastolo Luca Varani responsabile insieme a due rumeni di averla spregiata con l'acido nell'aprile del 2013 in un vero e proprio agguato. Adesso per lei riposo e poi ripartirà con l'amica del cuore con il suo libro per le scuole italiane. I giudici hanno ridotto da 14 a 12 anni di reclusione la pena per i due albanesi. Gli avvocati di Valiani faranno ricorso mentre c'è gioia e soddisfazione tra i familiari dell'avvocatessa di Urbino.